Napoli rende omaggio a Mohamed Ali, una delle icone sportive più famose e celebrate del XX secolo, con una mostra in programma dal 22 marzo al 16 giugno al Palazzo delle Arti di Napoli. La rassegna, promossa dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune, organizzata da Visit Different e curata da Marco Pastonesi e Giorgio Terruzzi, presenta 100 immagini provenienti dai più grandi archivi fotografici internazionali che raccontano Ali i momenti fondamentali della sua vita non solo sportiva. Il percorso espositivo, suddiviso in sezioni tematiche, inizia con le fotografie che celebrano le sue imprese pugilistiche più famose. Una mostra davvero fantastica, un grandissimo campione di box, di pugilato, Mohamed Ali, ma un maestro di vita, sempre in prima linea contro la guerra, per il pacifismo, per la giustizia, contro il razzismo, nella lotta per i diritti. Un'altra mostra davvero straordinaria nella nostra città, qui al Panna, fino a giugno. È molto bella perché non ci sono solo foto, ci sono immagini, c'è un ring, quindi è davvero molto bella. La mostra è un lungo racconto per immagini di una tra le più straordinarie personalità del Novecento, tre volte campione mondiale di pesi massimi, ma soprattutto un uomo protagonista nella lotta per i diritti civili dei neri americani e condotti di comunicazione particolari. È una storia, quella di Ali, una storia straordinaria. Siamo nel cuore delle contraddizioni del nostro tempo. Un uomo vero, un uomo che era esempio di bellezza e di forza, e nello stesso tempo è anche una storia di fragilità, di un uomo che aveva le sue fragilità e che cercava la sua forza nella gente, nelle persone. Quindi credo che questo sia molto vicino in qualche modo anche alla storia e all'anima della nostra città in questi nostri tempi. Quindi io spero che tanti giovani vogliano, attraverso la storia di una figura così popolare, ma al cuore di tante contraddizioni all'alba della globalizzazione, vogliano capire cosa è successo a questo nostro mondo e quali invece sono valori importanti di coerenza a cui ispirarsi. L'esposizione sarà aperta tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 9.30 alle 19.30.